messe a dimora su pacciamatura, pacciamatura è questo film qua che dopo lo vendete in campagna. E io le voglio maturate, queste sono maturate sulla pianta, non sono maturate chimicamente. Che ha deposto le uova che sono quelli che vi ho fatto vedere prima. Grazie a tutti. Un po' ritardiamo la raccolta. La circoria? La circoria di solito la mangi cotta. La circoria è buona con il fragiolo, è una bella zucca. La circoria è buona. La circoria di solito la mangi cotta. 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 La circoria di solito la mangi cotta.